Sicuramente è sempre difficile fare bene durante un anno e un campionato così difficile come quell'italiano. Noi speriamo sempre di fare il meglio possibile e se si può migliorare i risultati dell'anno spassato. Sarà molto difficile, ci proviamo come sempre, gli obiettivi sono importanti, la squadra è ambiziosa. Io personalmente spero di riuscire a dare sempre un maggior contributo per quello che riuscirò a fare per la squadra, per vincere le partite. Sei tra i pochi riconfermati di questa annata, che impressione hai sulla nuova squadra? Ancora purtroppo siamo pochi qua al palazzetto e arriveranno alla spicciolata più avanti, però dai ragazzi che abbiamo preso, dai giocatori che ci sono, credo che siamo una squadra molto equilibrata, credo che potremo fare molto bene e spero che riusciremo a creare subito un ottimo gruppo che è quello che ci vuole per iniziare una stagione importante come questa e cercare di confermarsi a livello italiano e europeo. Lorenzo diceva che bisogna partire bene, però queste tante assenze, compresa anche quella di Pinot Sacripanti, potrebbero comportare una partenza invece ad Endica, per meno in queste settimane? Sicuramente non è facile lavorare con pochi effettivi così e soprattutto con il capo allenatore che è impegnato con la nazionale, però sono sicuro che Max e Gianluca faranno un lavoro super insieme a Silvio e ci aiuteranno a entrare in forma immediatamente e poi sta a noi giocatori qua presenti creare subito le condizioni per amalgamare il gruppo il prima possibile e per poi fare entrare i ragazzi nuovi che arriveranno alla spicciolata immediatamente in condizioni di poter giocare. Io da me personalmente spero di continuare sul crescendo del finale di stagione e lavorerò al 110% per fare ancora meglio e cercare di tenere il livello delle prestazioni per tutto l'anno e non altalenante. Andrea, l'anno scorso ci siamo concentrati su entrambi gli obiettivi, sia il campionato che la Champions. Memori dell'esperienza dell'anno scorso, quest'anno secondo te si farà una scelta, nel senso puntare più sul campionato e meno sull'Europa oppure per la seconda volta puntare su entrambi i fronti? La società è ambiziosa, la squadra è forte e tutti noi vogliamo fare bene, quindi buttarsi adesso a scegliere un obiettivo mi sembra troppo da dire. È sempre piacevole e bello fare bene in entrambi i fronti, quindi penseremo partita dopo partita, impegno dopo impegno senza mai concentrarsi su qualcosa in particolare.